Ciao appassionati, come vedete non c'è sigla ma purtroppo questo video è un video d'urgenza d'urgenza per noi, per Francesco Calamai e vi chiediamo il vostro aiuto con la condivisione più possibile di questo video. Adesso vi vado a spiegare questa edizione del POI quindi tenuta il 14 e 15 ottobre 2023, in questa manifestazione purtroppo è stato sottratto il G50 personale di Francesco Calamai del quale qua vedete una foto, quadrante bianco e blu quindi fantastico orologio con anche il bracciale, queste manifestazioni che sono organizzate da appassionati come noi perché sono appassionati, spendono tantissimo tempo, noi eravamo in fiera e già si parlava del prossimo evento, quindi calcolate quanto tempo ci impiegano a creare queste manifestazioni per noi. Oltre a questo tutti gli espositori che fanno tantissima strada, tantissima per venire lì a farci vedere i nostri orologi che ci piacciono, farceli toccare con mano, come fa Francesco, Francesco nel suo banco non ci sono vetrine, non c'è nulla, il suo banco sono lì, gli orologi sono liberi, li può toccare chiunque, indossarli, polsarli, provare come la corona, la ghiera, il rio, riescono a testare completamente l'orologio ma questa cosa viene fatta perché sono tutti appassionati le persone che intervengono e invece mi rivolgo a quella persona, te che sei lì, che prima o poi tanto ci guarderai, che in questa manifestazione a posto di pensare alla bellezza degli orologi, ha pensato di rubare un orologio e sottarlo proprio a Francesco, a lui. Però adesso ti vado a dire due cose, perché uno, tutti gli orologi calamari hanno un numero seriale, come vedete questo qua è il mio, è il numero 100, il mio è il G50-100, questo è solo mio, non ce ne sono altri in giro e quello di Francesco era il numero 257, quello era il suo numero. Adesso vedrete qua il numero seriale di Francesco e questo rimarrà per tutta la puntata perché nel momento che voi vedrete questo video o la persona stessa, soprattutto la persona che ha rubato l'orologio in questa manifestazione, capirà che non ce ne può fare più niente. Se sei un appassionato, uno non lo sai veramente perché non vai a sottrarre un oggetto, perché noi appassionati andiamo in queste manifestazioni per scambiarci idee, confrontarci, opinioni sugli orologi, non andiamo lì per rubare, nessuno ruba. E te che hai rubato ti dico due cose. Uno, quell'orologio uno doveva passare in revisione perché comunque aveva un problema la corona e questo problema te lo terrai perché ha la corona. O vai da Francesco, perché è l'unico che ha le corone, perché sono le sue, o se no, a me è rubato una cosa che è inutile. Seconda cosa, questo orologio non lo potrai indossare fuori casa perché quando andai fuori, io quando indosso il mio G50, le persone mi dicono, me lo fai vedere? Me lo fai toccare con mano? Io non l'ho mai visto, un calamai. E quando lo vedono, lo girano, vedranno il numero seriale, sapranno che l'orologio che tu hai sottratto l'hai venduto? Bene, domani mattina Francesco va a fare denuncia, quindi finisce anche nelle rogne per una stupidata, stupidata, può essere stata una bravata, non mi interessa. Però realmente andare a sottrarre un orologio in una manifestazione così è una cosa assurda. E se poi ti viene in mente di levigare il fondello, quindi andare a togliere quello che è seriale, scusami se è ancora più stupido, se è ancora più stupido, perché ogni calamai è numerato, quindi non può essere rivendibile senza seriale. Se tu pensi, penso che sia l'unico comunque in giro o possato da qualcuno, quindi fai in ennesima figura. Adesso, vabbè, arriviamo proprio alla fine chiedendovi solamente a voi appassionati che siete lì, penso che nutrite tutti il rispetto per Francesco Calamai, per quello che fa, e quindi vi chiediamo il più possibile di condividere questo video ovunque, e dovunque, come purtroppo era già successo per il Dario. A meno, non è che magari questo orologio torni, speriamo. Però riusciamo a limitare quelli che sono i danni, ed evitare che questa persona possa comunque vantarsi o guadagnarci qualcosa su questo orologio. Questa persona deve rimanere lì, rinchiusa in casa, con il suo G50. E spero che trascorra il resto della sua vita, guardarselo e basta, perché è tutto quello che potrà fare, perché confrontarsi con noi appassionati, sei una persona che realmente io ti disprezzo, personalmente. Francesco, ci ho parlato oggi, e lui non farà nulla se l'orologio gli viene restituito, quindi qua adesso vedete tutto quello che è di Francesco, quindi l'indirizzo, il numero di telefono, tutto quello che può essere, lo ritrovate in descrizione. Quindi, te, che hai fatto questo gesto ignobile e schifoso, scusami, puoi benissimo prendere, mettere l'orologio in una scatola, imballandolo, rispedirlo a Francesco. Francesco non farà altro che aprire la scatola, ritrovare l'orologio, ritirare la denuncia e buttare via quello che ha l'indirizzo. Hai fatto una bravata, è stata una bravata, mettiamola così. Spero di metterla così, come una bravata e non come un vero furto. Comunque Francesco è d'accordo, e quindi non correrai nessun rischio, questa cosa qua morirà qua, e nel momento che fare anche questo, anche questo video qua, verrà cancellato, quindi non sarà più visibile su YouTube, perché comunque messo la coscienza a posto. e niente, riguardo a voi ragazzi, non c'è mi piace, non c'è un tubo, c'è solamente condividetelo il più possibile, perché questo video può servire solamente non a noi, ma a Francesco, per almeno avere la speranza che questa persona vi arrivi questo video e con questo video possa fare la cosa più giusta e più sana possibile, che è restituire l'orologio a Francesco, perché Francesco è uno di noi, è un appassionato. Io personalmente gli voglio bene, e questa cosa qua mi ha turbato molto. L'orologio è questo, la referenza è questa, se la vedete tenete l'occhio aperto, perché il 257 era il suo personale, braccialato, e vi dico anche di più, il bracciale non era messo benissimo, aveva un bel po' di righe, quindi il bracciale vabbè si può cambiare, si può mettere un cinturino generico, ma tanto gli orologi calamai, vi ricordo che varivano con certificazione, confezioni, tutto, è tutto perfetto, quindi se lo trovate questo è l'orologio, no, non va bene, quindi te restituiscilo, fai la cosa giusta. Ciao a tutti e grazie di tutto quello che farete, perché so che ci tenete anche voi a Francesco.